Nella giornata di ieri, venerdì 24 febbraio, il Genio Civile regionale ha disposto un intervento in somma urgenza sulla gravissima frana che sta interessando Casoli di Atri, in provincia di Teramo. Lo rende noto il consigliere regionale Luciano Monticelli. Stamani ho avuto modo di visitare di nuovo l'area interessata dal dissesto, ha detto Monticelli, e ho dovuto constatare un vistoso aggramamento della situazione dovuto alla condizione meteorologica di questi ultimi giorni. Purtroppo siamo costretti ad affrontare problemi di dissesto diffuso a largo raggio su tutto il territorio regionale, ma è vitale che su Casoli si passi subito all'azione, perdere anche una sola settimana è un lusso che non possiamo permetterci. Bene ha fatto il Genio Civile a disporre l'intervento in somma urgenza. In tarda mattinata anche il presidente della regione, Luciano D'Alfonso, ha fatto visita alla frana di Casoli. Ieri il geologo incaricato dei primi monitoraggi dal comune di Atri, Angelo Jezzi, aveva fatto un quadro della situazione. Si tratta di una frana lunga, circa 250 metri, con un'ampiezza di circa 80 metri e una profondità che si attesta tra i 3 e i 5 metri e che potrebbe celare un'altra frana più profonda. Sono più di 15 i nuclei familiari che sono stati costretti a lasciare le proprie case. L'evento merita estrema attenzione e interventi immediati per poter scongiurare ulteriori danni alle famiglie e all'unica strada, la provinciale 27, che permette l'accesso e il transito da e per Casoli, ha affermato ieri il sindaco di Atri Gabriele Astolfi, che aveva lanciato un appello agli enti preposti al fine di agire tempestivamente per evitare ulteriori danni.